Ciao da Malmo, ho cazzari, sono qui alla Nordic Game Conference, ho provato Jokanoid, vedete lo Steam perdone alle mie spalle, che è un gioco in uscita su PC e su piattaforme mobili, arriverà su Steam, su Android Store, iOS e via dicendo, ed è praticamente Arkanoid, quindi il gioco della barretta che devi far rimbalzare la pallina per distruggere i blocchi in alto, in cui però la barretta la disegni tu ogni volta prima di far rimbalzare la pallina, la disegni col mouse usando il dito e quindi quando la disegni puoi orientarla, puoi decidere nelle dimensioni, puoi piazzarla un po' dove ti pare e quello che ottieni è che piazzi la barra costantemente dove vuoi, la pallina rallenta nel momento in cui tu stai per disegnare, puoi decidere l'angolazione, spararla di qua e di là, poi ovviamente trovi power up, potenziali vari che ti danno poteri supplementari, poi ad esempio ce n'è uno che ti permette di tracciare il percorso della pallina e mandarla esattamente dove vuoi e altre cose sfizie del genere. Stile grafico un po' la gioco di Mitsubuchi con quell'aspetto tutto luminoso, fluo, discotecaro, molto molto bello, molto molto divertente, cerco di fare punteggi giga, sfruttando moltiplicatori eccetera, sfizioso divertentissimo, io ho giocato con la tastiera insomma, però mi sembra una roba che si gioca tranquillamente anche col dito sul touchscreen, assolutamente da aspettare in arrivo a breve, bello, fico, canzo, ciao!